bocche cucite almeno con il giornale e nessuna dichiarazione ufficiale il procuratore capo di catanzaro nicola gratteri non commenta e non smentisce l'ipotesi che alla fine sia il suo ufficio a doversi fare carico delle indagini sulla strage di cutro del 26 febbraio a poche centinaia di metri dalle coste di steccato di cutro soprattutto se come pare gli esposti di alcuni superstiti le denunce delle ong e le sollecitazioni del mondo politico dovessero portare alla sbarra il ministro dell'interno matteo piantedosi e quello delle infrastrutture e dei trasporti di certo le indagini saranno lunghe e complesse i reati dovranno avere fondamento altrimenti l'eventuale processo diventerebbe l'ennesimo terreno di scontro tra magistratura e politica per ora è la procura di crotone che indaga per omissione di soccorso e disastro colposo anche se un paio di filoni sono stati aperti anche all'ocri il pool di avvocati vincenzo cardone mitia gialluz luigi ligotti e francesco verli contestano che dal naufragio ai soccorsi sono passati in vano 30 minuti c'è chi come si watch open arms e mediterranee assieme una quarantina di altre ong lamenta che il naufragio potesse essere evitato grazie alle informazioni comunicate da frontex quasi 24 ore prima del disastro alle 23 03 di sabato 25 febbraio ma che la normativa nazionale ed internazionale in tema di soccorsi in mare non è stata applicata anche se l'imbarcazione alla deriva aveva tutte le caratteristiche per essere considerata in distress la guardia di finanza è uscita in mare alle 2.20 di domenica con due mezzi poi rientrati un'ora dopo a causa delle pessime condizioni meteomarine i mezzi della guardia costiera che avrebbero potuto affrontare la tempesta non si sono mossi perché non era stata considerata un'operazione di salvataggio tutto ruota intorno al viminale a cui spetta il controllo delle operazioni search and rescue in capo all'IMRCC Italian Maritime Rescue Coordination Center e al Ministero delle Infrastrutture competente per CELIMRCC è attivato presso il comando generale delle capitanerie di porto si legge nell'esposto di alcuni legali ma l'evento SAR non si è mai avviato anche a causa del fatto che ai profughi è stato impedito di lanciare l'allarme come raccontano alcuni testimoni e questo ha creato un corto circuito nella catena di comando dei soccorsi da qui l'ipotesi che Piantedosi e Salvini debbano rispondere davanti al tribunale dei ministri di Catanzaro questi erano profughi diversi dal solito commenta con il giornale un inquirente che conosce le indagini il loro sbarco non era concordato con le altre ONG come succede quasi sempre quando si parte dalla Libia erano siriani e afghani gente che aveva diritto d'asilo ma non aveva documenti il loro numero è in aumento le organizzazioni criminali dedicate al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare principalmente kurde e pakistane scelgono di partire dalla Turchia o dal Libano assieme a nordafricani ma anche pakistani afghani iraniani indiani o nepalesi spesso dello stesso nucleo familiare e con molti minori la cui gestione è in capo a singoli trafficanti di uomini o micro gruppi criminali come spiegano i nostri 007 destinazione calabria e puglia uno degli scafisti di cutro è un 17enne pakistano riconosciuto da alcuni superstiti la cui sorte venerdì prossimo dipenderà dal tribunale dei minori di catanzaro se emergessero rapporti con le nedrine calabresi come gratteri pensa da tempo l'indagine avrebbe tutto un altro senso se ne vediamo se ne vediamo se ne vediamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.